Ci siamo rivolti casualmente a Venezia, abbiamo realizzato il sogno di memoria di questa cucina che ne siamo esattamente soddisfatti. Sì, sono contenta molto anch'io, dopo un po' di anni che pensavo appunto di ricambiare la cucina, sono contenta sia del risultato finale, della consegna, del progetto in sé, del colore. No, siamo proprio contenti e Alberto ci ha proprio servito bene. Un ringraziamento sincero a Venezia Showroom. Grazie a tutti.